ma che bontà io adoro la cioccolata spalmabile cosa c'è di più buono di questo abbinamento pane cioccolata e ti fai pure vedere in video dopo tutte le prediche che ci fai non mangiare zucchero bianco evita i grassi idrogenati e tu allora lo sai che quei prodotti sono pieni di schifezze ma infatti io non li voglio neanche vedere guardate invece cosa mangio ciao amici oggi è il nostro giorno fortunato pensate che bello possiamo concederci una merenda peccaminosa ma senza peccare che ne dite io stavo aspettando da tempo questo momento e non solo io molte mamme mi scrivono per sapere quale può essere una merenda sana per i ragazzi e anche per loro perché anche le mamme fanno merenda e anche i papà e anche i ragazzi e le ragazze grandi ecco la vera novità una crema di cacao e nocciole spalmabile e proteica hai detto proteica sì esatto se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace altri nuovi video e chi l'ha pensata questa fantastica idea è della foodspring l'azienda di prodotti sani che io adoro e che sponsorizza il video di oggi per me è una vera genialata pensate a tre volte più proteine e il 90 per cento di zucchero in meno della novità o altre creme industriali la crema di cacao e nocciole della foodspring ha più proteine che carboidrati e quindi possiamo permettercela anche se siamo a dieta perché nutre la massa magra e la lista degli ingredienti sani non finisce qui ci sono vere nocciole tostate e cacao magro in polvere per dare il classico gusto ciocco nocciolatoso e vaniglia naturale per non sentire la mancanza delle altre creme industriali e poi le citina di girasole olio di cocco e burro di cacao al posto dell'olio di palma per ottenere quella cremosità irresistibile e al posto dello zucchero bianco maltitolo un dolcificante di origine tutta naturale alla fine del video vi comunicherò una sorpresina che ho preparato per voi proprio su questo zucchero buono insomma proteine sane grassi buoni zuccheri naturali ma cosa volete di più beh che sia buona i prodotti foodspring sono sempre buonissimi lo hanno scritto nei commenti le amiche e gli amici che li hanno già provati e sono numerosi per conoscere la selezione dei prodotti foodspring che ho fatto nei miei video andate a vedere la playlist oppure cliccate sulla piccola i lì in alto comunque di la verità i tuoi dubbi erano solo una scusa per assaggiarla tieni qua crema cioccolatosa nocciolatoso vieni a me vieni a noi ma ve la siete finita tutta era troppo buona per fortuna ne ho un'altra anche perché a un prezzo davvero conveniente e poi quando un prodotto è così nutriente non c'è bisogno di esagerare invece nelle creme industriali lo zucchero bianco e l'olio di palma stimolano la voracità e impediscono di arrivare alla vera soddisfazione qui invece gli ingredienti sani e naturali danno soddisfazione con le giuste quantità tenetela nell'armadietto della colazione o mettetela nella dispensa della merenda sempre a portata di mano perché la protein cream della foodspring è deliziosa sul pane sulle fette biscottate sulle piadine crepe pancakes e anche da sola per gli irriducibili golosoni come sempre la foodspring offre a tutti i follower del mio canale uno sconto del 15% usando il codice sconto vignali piccolo yt yt grande andate in descrizione per il link al prodotto di oggi e per le istruzioni su come usare lo sconto fatela provare ai vostri amici ma non diteli che cos'è prima e poi fategli vedere il vasetto e fategli vedere questo video e condividete anche il codice sconto mi raccomando siamo tutti generosi simona è il regalino finale di cui parlavi ti sei dimenticata ma dov'è simona sarà andata a finirsi la cioccolata protein cream ve lo dico io in descrizione trovate il link a un ebook gratis sul maltitolo per conoscerlo meglio perché è uno zucchero sano ed è importante essere informati nel modo giusto ne approfitto anch'io vado a scaricarlo è gratis bene ora fatemi felice condividete questo video e scrivetemi come sempre i vostri commenti qui sotto noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao ma che buona ma ve la siete finita tutta ciao